C'è un bilancio che cresce di circa il 19% e una grande attività. Quindi al di là dei numeri di un bilancio in pareggio, abbiamo segnalato, la stessa dottoressa Cannoni ci ha raccontato quello che è il lavoro che stiamo facendo, che la Regione Toscana sta facendo e Arti in particolare in questi primi mesi. Si chiude in pareggio il bilancio di previsione 2023 di Arti, l'Agenzia Toscana per l'impiego, con un valore della produzione pari a 84 milioni 201 mila euro, con un aumento del 19% rispetto all'anno precedente. È stata Ilaria Busetti, Presidente della Commissione Sviluppo Economico, a illustrare in aula le caratteristiche del bilancio di Arti. Inizia una fase nuova, una fase importante per il lavoro e per la formazione del lavoro, perché grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e con Ampal, ma anche alle risorse che arriveranno nel Fondo Sociale Europeo, noi dovremmo avere attenzione e cura sui territori per incrociare la domanda e l'offerta. Il mercato del lavoro sta cambiando e bisogna essere capaci di incrociare le esigenze delle imprese e delle aziende con le esigenze dei lavoratori. Quindi una grande attenzione anche alla concertazione con le amministrazioni comunali, con le associazioni di categoria, con le associazioni sindacali. Il Consiglio approva a maggioranza la proposta di deliberazione con quale esprime il parere favorevole al bilancio. 19 voti favorevoli, Partito Democratico, Italia Viva e 7 contrari. Lega, Fratelli d'Italia, Gruppo misto Toscana domani. Voto positivo da parte di Italia Viva, un'agenzia che cerca ovviamente di lavorare rispetto all'impiego del personale, la ricerca dell'occupazione, della prima occupazione, il ricollocamento delle persone, il tentativo ovviamente di migliorare la qualità della vita della persona e trova la parte nostra massimo sostegno, è la logica del lavoro che deve ovviamente nobilitare l'uomo e non quella dei sussidi, è il motivo per il quale noi abbiamo sempre e convintamente investito sulle politiche di arti, che sono delle politiche di carattere regionale, che però tengono conto anche delle impostazioni di carattere nazionale. Noi non possiamo pensare che il lavoro lo trova chi viene assunto in arti, perché poi questo diventa il paradosso. E questo ulteriore paradosso può essere anche quello per cui oggi, di fronte a una necessità, di snellire soprattutto il rapporto tra domande e offerte, di trovare un raccordo molto speso tra ciò che chiedono le imprese e anche un lavoro qualificato. Quindi il nostro giudizio è un giudizio ad oggi negativo, soprattutto perché dovremo vedere da qui al prossimo futuro come le risorse verranno effettivamente spese attraverso un'attività intensa di monitoraggio. L'agenzia fa sicuramente un grande lavoro per tutto quello che riguarda le pratiche amministrative, che spesso i disoccupati o coloro che hanno lavoro stagionale devono fare. Si pensi al grande lavoro che sostengono ogni settembre, quando tutti i lavoratori stagionali vanno a farne la richiesta. E spesso si trovano, appunto, tutti questi dipendenti a trovarsi ad affrontare una grande quantità di persone con difficoltà anche logistiche per riuscire a soddisfare tutti i bisogni che ci sono. Proseguire nel percorso già avviato di revisione della legge regionale per garantire coerenza con i percorsi partecipativi già individuati. Avviare una riflessione utile alla revisione della disciplina del dibattito pubblico regionale. Incentivare l'individuazione di strumenti adeguati a consentire all'autorità di effettuare un monitoraggio sugli esiti dei processi partecipativi oggetti di finanziamento. Questi gli impegni contenuti nella risoluzione collegata all'attività 2002 dell'Autorità per la partecipazione della Regione Toscana, che l'Assemblea Legislativa ha approvato a maggioranza. L'occasione dell'illustrazione dell'attività dell'autorità per la partecipazione è stata opportuna anche per porre l'accento su alcuni aspetti. Da una parte l'adeguamento della legge regionale 46 del 2013 sulla partecipazione, che anticipa una riforma normativa che presto approderà nell'aula del Consiglio regionale. Dall'altra parte una riflessione sull'Istituto del dibattito pubblico regionale e la necessità di garantire coerenza di questo istituto con l'omologo previsto a livello statale. Si è posto poi l'accento sulla necessità di garantire un'adeguata formazione del personale dei comuni rispetto ai percorsi partecipativi, soprattutto dei comuni più piccoli della nostra Regione. E per questo il Consiglio regionale ha votato una proposta di risoluzione a maggioranza, nella quale, oltre ad auspicare una revisione della legge sulla partecipazione dell'Istituto del dibattito pubblico regionale, si è posto l'accento sulla necessità di incentivare le forme di monitoraggio degli esiti dei percorsi partecipativi sviluppati a livello regionale e dall'altra parte di garantire un maggior coinvolgimento dei piccoli comuni nei percorsi di partecipazione attraverso la formazione del loro personale. Ovviamente i percorsi di partecipazione sono favoriti da una legge toscana. Da parte nostra più volte abbiamo sollecitato un miglioramento del quadro normativo rispetto ad un principio cardine. La partecipazione è corretta, è doverosa, è opportuna, è importante, però non deve mai ostacolare processi decisionali. È fondamentale la dimensione dell'ascolto. Abbiamo visto che in molti casi l'ascolto diventa importante quando attivato dalle amministrazioni comunali o anche dai cittadini stessi, però è evidente che dobbiamo sempre favorire il processo decisionale. Quello è il compito del Consiglio regionale e quella è la funzione della politica e delle istituzioni. Quindi noi stiamo su questo contesto, però ci portiamo i nostri rilevi critici per cercare di migliorarne il quadro. Ne stiamo discutendo con la maggioranza. Contrari, Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana domani. La Lega vota contro semplicemente perché siamo piuttosto scettici sul fatto che gli strumenti di partecipazione non siano ancora debitamente conosciuti e utilizzati specialmente dai parti dei privati. Nel 2022 ci sono state province che non hanno proprio visto l'utilizzazione di strumenti partecipativi, territori provinciali intendo, Prato e Massa Carrara. Quindi al di là delle buone intenzioni, di tutte le dichiarazioni di intenti, che le cose vadano bene, cerchiamo di dotare di risorse, di personale, cerchiamo di farli utilizzare, di farli conoscere, questi strumenti della partecipazione. Perché vedete, noi li abbiamo mutuati da altri ordinamenti, li abbiamo presi da altri ordinamenti giuridici, come quello francese, perché avevano un scopo nella ragione di evitare il contenzioso amministrativo. Diciamo che premetto di essere in generale a favore della partecipazione, inteso però come strumento efficace ed effettivo di coinvolgimento, di quella che è la pubblica opinione rispetto a temi centrali. In realtà, per come è stata posta la questione, oggi rischia di essere una mera dichiarazione di intenti, perché se noi pensiamo alle tante sfide, penso alle infrastrutture, mi viene in mente l'aeroporto, mi viene in mente la partita su rifiuti, in realtà sulle sfide cruciali che riguardano la regione di partecipazione ne abbiamo vista molto poca, tra l'altro non attivata neppure a livello regionale, anche laddove, penso alla questione aeroportuale, si sarebbe potuta attivare. Quindi la sfida è, si crede davvero nella partecipazione, allora dobbiamo iniziare a calibrare e a basare le politiche pubbliche su un confronto, su quelli che sono dei temi cruciali che riguardano il futuro della Toscana. Astenuto il Movimento 5 Stelle. La partecipazione è uno strumento che la regione toscana ha e soprattutto possiede una legge tra le migliori che abbiamo in Italia, pur se risalente al 2013. Nel documento preliminare che verrà presentato oggi si parlerà anche di come modificarla per migliorarla, ma la verità è che bisogna capire quante volte la regione e gli enti locali utilizzano questo strumento, come lo utilizzano, cioè se è solo di facciata per delle formalità, oppure se viene implementata nel modo più corretto, e soprattutto quanti di essi lo usano e quanto vengono ascoltate. Sarà vietato ai minori l'uso delle Ticket Redemption, ovvero le macchine da gioco che alla fine della partita restituiscono al giocatore dei punti, che possono essere accumulati e utilizzati per l'acquisto di premi all'interno delle sole giochi e dei centri commerciali. Il nuovo testo normativo è d'iniziativa di un gruppo di consiglieri del PD, prima firmataria Anna Paris. È un divieto, è un divieto dall'utilizzo di questi dispositivi che rendono questi giochi Ticket, tagliandi, che troviamo nelle sale giochi per i minori. Per i minori perché ci troviamo di fronte a ragazzi deboli e che più giocano, si crea un meccanismo gioco-cratificazione, un meccanismo subdolo, subdolo perché il ragazzo non ha le capacità per individuare questo rischio, gioca, spende, ticket per poi ottenere dei gadget di un rilievo minimo, mentre si crea un sistema che poi il ragazzo cresce, diventa un elemento strutturale nell'adulto e quindi è una forma di prevenzione primaria. Permettetemi di dire due parole sulla mia grande soddisfazione perché mi sono avvicinata a questo testo con alcuni dubbi, non sapevo come sarebbe stato recepito, è stato invece recepito all'unanimità. Sono pochi articoli, se voi leggerete la legge, sono pochi articoli, ma non vi nascondo che il processo è stato molto lungo perché è passato in Commissione Sanità, prima nella Commissione Sviluppo Economico, però ha trovato il consenso di tutto il Consiglio regionale. Riteniamo con questa normativa di fare un regalo a tante mamme e soprattutto ai nostri figlioli, che sono questi ragazzi tanto deboli, che purtroppo non abbiamo il tempo di controllare durante le 24 ore i loro pomeriggi, possono raggiungere queste sale giochi e purtroppo non essere controllati. Speriamo poi che ci siano i controlli. Noi proponiamo questa legge, a questo punto ci sarà un regolamento che definirà più nello specifico gli aspetti più tecnici, c'è anche ovviamente la sanzione e poi ci dovranno essere ovviamente i controlli. Noi più di così non possiamo fare. Il Consiglio ha approvato la nuova legge con voto unanime. Inizia il proprio percorso legislativo quando io ero Presidente della Commissione Sanità, quindi un test al quale sono particolarmente affezionato, ha fatto un percorso, si è strutturata, periodicamente viene aggiornata, vengono reinseriti altri elementi di massima attenzione, soprattutto rispetto ai minori. E credo che queste siano delle attenzioni doverose che il Consiglio regionale fa in una logica di prevenzione. Questo è lo spirito della legge, una legge che è datata dalla scorsa legislatura, ma che ha dimostrato di produrre degli effetti importanti rispetto alla logica della prevenzione. serve molta informazione e comunicazione, ovviamente servono delle sanzioni, quindi una legge che si struttura con il passare del tempo alla quale sono e rimango particolarmente legato. È una legge che mette un altro tassello in quella che è la lotta alle ludopatie, cioè il ticket redemption, che sono una forma particolare con cui le vincite vengono trasformate in oggetti di piccoli valori, ma che danno la gratificazione, soprattutto ai giovani, ai ragazzi. È diventata una legge e questo è un altro passaggio importante appunto. Quello che dobbiamo fare, ci abbiamo molto lavorato anche nella scorsa legislatura con Andrea Quartini, nostro esponente regionale, oggi deputato ed esperto in tutto quello che sono le dipendenze, è cercare di combattere tutte le fonti di questo che è una vera e propria piaga sociale. Un'altra cosa su cui dovrà essere fatto un grande lavoro e si sta facendo, ad esempio, sono i giochi online, quelli che invece danno semplicemente degli omaggi, dei regali, che sono delle gratificazioni che possono essere trasformate in qualcosa di economico. Siamo contenti che prenda corpo questa proposta di legge perché oggettivamente i giovani vanno tutelati e, come ho detto in aula, potrebbe essere una proposta di legge, quindi una legge di portata rivoluzionaria perché se si fa un buon uso di questa legge, si fa capire ai giovani l'importanza di non giocare e di non diventarne schiavi perché gli schemi psicologici sono estremamente labili e fini da parte di chi inventa questi giochi di modo che i ragazzi restano in qualche modo invischiati e questi ragazzi poi crescono quindi potrebbero essere i futuri uomini che in qualche modo evitano di rimanere con lo stipendio lasciato nei vari giochetti perché anche il grattevincio che il nostro Stato propone quando ti fa uscire un numeretto che è vicino a quello che te hai pensi di essere stato solo sfortunato in realtà si è rimasto invischiato nella loro trappole Seconda edizione del premio Miglior Tesi di Laurea David Sassoli aperto dal Consiglio regionale dedicato ai giovani delle Università della Toscana c'è tempo fino al 31 luglio per presentare la domanda di partecipazione l'iniziativa è stata illustrata dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo Noi siamo davvero contenti di aver istituito con legge un premio che ricordi uno dei più grandi uomini delle istituzioni del nostro tempo David Sassoli ha cambiato l'idea di Europa sempre più come la capacità di saper portare sui territori le tante opportunità che nascono in Europa Dietro le mie spalle c'è una frase una frase bellissima la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno ed è esattamente con questo spirito che sta il nostro impegno nelle istituzioni e con questo spirito abbiamo deciso di premiare le ragazze i ragazzi, i laureati che abbiano prodotto le migliori tesi di laurea sull'Europa perché oggi noi abbiamo bisogno di più Europa perché a volte per i cittadini l'Europa è sempre lontana ma invece è così vicina pensate al finanziamento che abbiamo appena portato a casa di 15.000 posti gratuiti negli asili nido in Toscana per chi? Per quelle famiglie che soffrono per quelli che non ce la fanno e che oggi avrebbero avuto meno opportunità degli altri questo è l'esempio di David Sassoli e noi lo stiamo provando a mettere a terra e dando speranza a chi soffre di più a chi soffre di più